La Valdichiana ecologica, senza centrali a biomasse, al centro di uno studio come esempio di qualità. La vallata, attraverso una conservazione delle sue tipicità e l'eliminazione di fonti di inquinamento esistenti o di quelle in programma, centrali a biomasse comprese, potrebbe diventare un esempio internazionale da illustrare nell'ambito di una conferenza internazionale in programma ad Arezzo nel 2014. Più che un'ipotesi è l'indicazione emersa dal workshop svoltosi a Sansepolcro come fase preliminare della quinta conferenza internazionale su salute e ambiente. Due le tematiche principali, la green economy in agricoltura, quindi valorizzazione della qualità agricola biologica, riduzione dell'uso dei pesticidi, niente colture OGM e privilegio agli aspetti culturali e turistici legati all'enogastronomia, promuovendo la produzione e il consumo di prodotti a filiera corta. L'altra tematica è la salute ambientale del bambino, con la messa a punto di un pacchetto formativo rivolto ai rappresentanti di tutte le società medico-scientifiche, perché è ormai palese la correlazione fra varie patologie e l'ambiente nel quale viviamo. L'impegno degli organizzatori è quello di coinvolgere nel progetto organizzazioni governative e non e di avviare a partire dalle prossime settimane gli incontri necessari alla riuscita di un programma articolato e multidisciplinare che porterebbe la Valdichiana ad un livello di valorizzazione fra i più alti al mondo con grandi prospettive di sviluppo economico realmente ecologico.